L'importo complessivo è di 2 milioni di euro per sostenere i giovani artigiani e le piccole e medie imprese del territorio. È questo il contributo stanziato a fondo perduto dalla Regione Veneto con un apposito bando per incentivare i giovani e le piccole e medie imprese. Un'ottima opportunità di crescita da cogliere anche per gli artigiani del Milanese e della provincia di Venezia. Il funzionario dell'associazione milanese di categoria Andrea D'Arcorso spiega Un bando che prevede contributi a fondo perduto fino ad un massimo di 51 mila euro ed è proprio per questo motivo un'opportunità che va tenuta in seria considerazione da parte delle imprese del territorio milanese ma anche provinciale. È questa occasione buona anche per fare il punto della situazione nel milanese. 744 imprese sono classificate come giovanili nel milanese e il 14,5% della provincia di Venezia. È un dato in lieve risalita rispetto all'anno precedente. L'associazione di categoria si rende subito disponibile per eventuali chiarimenti degli interessati. Va fatta estrema attenzione però a massimali priorità previste dal bando perché queste sono le caratteristiche discriminanti per avere o meno successo. Il bando apre con una finestra temporale che va dal 5 al 19 marzo e dentro questo lasso di tempo possono candidarsi tutte le imprese che presentano i requisiti. Grazie. Grazie. Grazie.